Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Come facevano negli anni 80 i venditori di materassi in televisione? Avete un'impresa? In questo caso avete un'impresa edile? Venite qui nella strada verso Secciola. Portate il vostro materiale a terizio, portate il residuo dei vostri lavori, quelli per cui venite pagati per la bonifica. Venite qui e gettate tutto. Non ci sono problemi. Potete iniziare dall'inizio della strada fino alla fine. Un mare di rifiuti. Parliamo di vetri a terra, di materiale a terizio, di sottotetti in gomma, di coperture, di bagni, di sanitari, di WC e lavabi, di paraurti di auto, perché avete una carrozzeria e volete gettare un paraurti? Passate per la strada per Secciola, quella che doveva essere asfaltata. Ovviamente nel frattempo ci sono buche, crateri enormi. La strada è una strada bianca, come le notti dei falsi amatori. E poi tutto il resto è un vero schifo. Vera TV vi sta facendo vedere delle riprese che offendono la razza umana. Tutti i rifiuti che la Team potrebbe tranquillamente venire a prendere sotto casa. Invece si fanno chilometri e si getta. Forse gli stessi incivili degradanti che non pagano i rifiuti. Per cui siamo costretti a pagare una tassa enorme. Vi lascio con le immagini di Simone che raccontano anche delle bellissime mattonelle per i bagni. Sì, ma passiamoci. Ci sono anche le prove del parquet. Questa invece è un'altra mattonella. roba dozzinale. Si potrebbe asfaltare parte del Corso San Giorgio, si potrebbe utilizzare. Saranno T. Cisinerie anche loro. Vi salutiamo, perché l'amarezza di essere parte di questa razza umana ci imbarazza.